Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta salata con verdura e mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono una dose di pasta a briseo pasta al vino, mascarpone, zucchine tagliate a pezzetti, pomodori ciliegini tagliati in quarti, grana vadano, uova, pepe, sale e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il grana e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. aggiungiamo adesso il mascarpone, la noce moscata, il sale e il pepe. ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. aggiungiamo le zucchine e i pomodori ed amalgamiamo per 20 secondi con l'antiorario a velocità 2. il composto è pronto, versiamolo nella dose di pasta a briseo o pasta al vino rimendiamo bene adesso chiudiamo i bordi adesso andiamo a cuocere in forno per riscaldato a 190 gradi per 40 minuti circa la torta salata è cotta lasciamola intiepidire prima di servire torta salata con verdura e mascarpone grazie e alla prossima ricetta ciao 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 ciao